Tutti abbiamo la massima fiducia reciproca in questa squadra. Momenti difficili ci sono stati e ci saranno. Quando si sono messi a zona non riuscivamo a segnare neanche per sbaglio. Succede, ma la cosa più importante è la nostra forza di volontà. Io ho totale fiducia in tutti i miei compagni e loro ce l'hanno in me, permettendomi di fare quello che so fare. Joe si è fatto avanti nel momento più importante della gara, Boyan ha difeso alla grandissima, Royce sta facendo lo stesso dall'inizio della serie, Rudy lo conosciamo tutti e anche stasera ha preso i suoi soliti 20 rimbalzi. Con noi funziona così, se vogliamo vincere dobbiamo vincere di squadra e anche se i tiri non entrano sappiamo come continuare a giocare, perché la fiducia che abbiamo in noi è ai massimi livelli. Parole del quinto miglior giocatore per punti per partita nella storia dei playoff NBA, con un minimo di 25 partite disputate. Niente male ve per uno scelto alla tredicesima chiamata solamente quattro anni fa, giunto a Salt Lake City in punta dei piedi ed esploso, oltre ogni più rose aspettativa, con tutte le sue qualità tecniche e di leadership. E sì che nei suoi due anni al college ha chiuso 11 punti di media ed un poco carino 40% dal campo. Nessuno, e dico nessuno, poteva immaginare che sarebbe diventato un realizzatore di questo tipo. I Jazz volano sul 2-0, sfruttando appieno le due partite in casa, ma comunque rischiando sia in gara 1 che in gara 2 di capitolare contro dei Clippers apparsi stanchi nei momenti chiave. Saranno le sette partite con Doncic o sarà che cominciano sempre con un deficit in doppia cifra e sono costretti a dar tutto per rientrare. Fatto sta che Sponda aiuta quando la palla pesa, difficilmente in mani diverse rispetto a quelle di Spida. Ma gara 2 lancia dei messaggi importanti, ed uno lo ha detto chiaramente lo stesso Mitchell a fine partita. Quando i Clippers si sono messi a zona, non riuscivamo a segnare neanche per sbaglio. Questa è chiaramente la prima chiave, non solo per gara 3 ma per tutto il resto della serie. I Clippers non stanno perdendo in attacco, sebbene siano poco piacevoli da vedere giocare come al solito. La stanno perdendo in difesa, dove le spaziature dei jazz ed il loro giropalla porta sempre un giocatore a tirare in maniera comoda. E poi ci sono Spida e Clarkson. Il primo ormai sa leggere le difese come pochissimi al mondo. I Clippers hanno provato a mettergli tutti, da Paul George a Patrick Beverley fino all'arma Kawhi, ma a uomo Mitchell riesce sempre a capire come attaccare il diretto difensore. Il secondo, in questa stagione, può tirare anche girato, seduto, con i piedi legati e bendato, e farebbe canestro lo stesso. Ed allora Tyron Lu, che nonostante l'aspetto da ebete non credo lo sia veramente, ha estratto la zona dal cilindro. Primo punto, Zone Troubles, i problemi dei jazz con la difesa a zona di Lu. Non ti aspetti che una squadra piena zeppa di tiratori affidabili come i jazz possa affaticare contro la zona, ed invece è stato chiaramente così. E quando perdi fiducia nel tuo attacco, cominci a rifiutare tiri che solitamente spari. Magari non Spida, sicuramente non Clarkson, ma i vari Niang e Royce O'Neal cominciano a tentennare. È tutta una questione di fiducia e la zona dei Clippers, per quanto poco, ha minato molte delle certezze di Utah, permettendo alla banda Lu di rientrare, andare in vantaggio e poi calare fisicamente sul finale. Solo cinque possessi a punti sui 22 in cui Utah ha dovuto fronteggiare la zona schierata da Coach Lu. Sono numeri pesanti, ma anche solo il ritorno in campo di Mike Conley potrebbe facilitare di molto la questione. Secondo punto, il fattore Rudy. Rudy Gobert ha giocato 36 minuti in gara 2, con lui in campo più 14 di plus minus. Senza di lui, e quindi con Derrick Favors, la solidissima difesa dei Jazz crolla come un castello di carte al primo soffio di vento. Automaticamente Reggie Jackson e Paul George hanno ripreso ad attaccare il ferro, ed il plus minus con Favors in campo diventa meno 8, differenza 22 punti tra quando Rudy è in campo e quando non lo è. Questo è uno dei punti se non il punto chiave della serie. Se i Jazz sono costretti a chiedere a Gobert di giocare 45 minuti, alla lunga e con i ritmi e l'intensità playoff c'è il grosso rischio che il francese crolli fisicamente. Utah deve trovare un modo per sopravvivere ai momenti in cui Gobert riposa, perché se riuscissero a far questo avrebbero un grossissimo vantaggio nella serie. Se Favors non rende, perché non provare una small ball totale con 5 piccoli in campo? Un modo comunque devono cacarlo fuori, ma questo è pane per Quinn Snyder. Terzo punto, continuità e percentuali. I Clippers non hanno tirato male, ma il problema è che con la difesa a uomo i Jazz hanno tirato con percentuali paurose. Questo è il vero grandissimo dubbio sull'esito di questa serie. I Clippers perdono meno palloni, prendono più rimbalzi, soprattutto offensivi, e tirano molto meglio i liberi, oltre ad avere una maggior profondità a roster. I Jazz basano molto del loro attacco, se non tutto, sul tiro da 3. Può entrare, come in gara 2, ma può anche uscire. Le chiavi sono la qualità dei tiri e la fiducia nel prenderli. Con la zona hanno titubato e credo proprio che in gara 3 i Clippers ci torneranno ben presto, magari non da subito, ma nel corso della serie ci torneranno. Se Utah si allena e trova un modo per attaccarla, the sky would be the limit. E poi un'ultima cosa. Questa run di Mitchell assomiglia sinistramente alla run di Dwayne Wade nel 2006. Wade e Shaq allora, Spida e Rudy oggi. Aggiungete che di Wade fa parte ora della proprietà dei Jazz e le circostanze cominciano a starmi parecchio antipatiche. Ditemi la vostra come sempre nei commenti, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per non perdervi le novità targate NBA Revival Zone. Un saluto, il Franz.